ciao a tutti amici dei pesci benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami pesci tendenze energetiche affettive per la seconda parte di agosto 2022 abbiamo l'eremita amici dei pesci periodo di introspezione per qualcuno si potrebbe trattare di un momento di solitudine ricercata o magari per qualcuno no non è così ricercata queste solitudine ma è un momento che state vivendo andiamo a vedere ok abbiamo sentimenti romantici i tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli e meriti amore sei degno di essere amato quindi qui si tratta di dare un'autovalutazione a quello che si prova e a se stessi il momento eremita è qui proprio per farvi fare quello che un'introspezione una ricerca interiore probabilmente molte persone devono come vi posso dire imparare a catalogare i propri sentimenti a dargli un ordine diciamo così andiamo a vedere con i tarocchi vi ricordo comunque che le letture sono generali sono fatte per un collettivo quindi potrebbe non risuonare tutto voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo se non risuonasse niente o se volete completare il vostro messaggio potete anche ascoltare l'ascendente segno lunare e venere sotto nella descrizione del video poi trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi partiamo con la carta del carro il 2 di coppe un 4 di coppe carta del carro è una carta di movimento può anche far riferimento a uno spostamento proprio di larga distanza di tipo fisico comunque fa riferimento anche a quello che è una scelta che è stata presa e potrebbe proprio essere la scelta di incontrare qualcuno ad incontrare una persona di andare a livello successivo per quello che riguarda una relazione qualcuno si è compromesso con questo 2 di coppe però abbiamo questo 4 di coppe qualche cosa mi fa capire che non siete completamente soddisfatti o contenti del tipo di situazione che si è instaurata c'è un 4 di denari quindi qui si parla di una sorta di attaccamento a qualche idea o a qualche tipo di concretezza di quotidianità andiamo poi avanti con un principe di coppe al contrario e un 7 di bastoni al contrario qui il compromesso c'è o ci sarà nel caso non l'abbiate perché comunque abbiamo un 2 di coppe c'è comunque un incontro un qualche cosa che da un inizio a però avendo questo cavaliere di coppe al contrario credo che non sia esattamente quello che volevate voi e per quello che c'è questo quattro di coppe il 7 di bastoni al contrario mi può far pensare al fatto che qualcuno si stia un po facendo influenzare da probabilmente quello a cui siete attaccati oppure potrebbero essere delle influenze esterne in questo caso ragazzi la stesa finisce con la carta della giustizia arriva quello che è un equilibrio o si parla di poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi o si parla di qualche cosa che deve essere tagliato ma non lo sento tanto sinceramente però magari per qualcuno risuona o più semplicemente qualche cosa che arriva all'equilibrio c'è una sorta di giustizia divina qui che arriva per portare in equilibrio le cose la giustizia parla anche di contratti ok potrebbe essere un contratto un accordo firmato vi ricordo che qua c'era un compromesso comunque andiamo a vedere carta per carta andiamo a vedere il carro abbiamo l'imperatrice e un fante di pentacoli al contrario qui è un movimento di tipo concreto perché abbiamo l'imperatrice l'imperatrice parla di un'energia creatrice un'energia di espansione energia di crescita ok quindi qui guardate fa anche riferimento alla madre quindi per qualcuno qui il passo potrebbe essere quello di voler diventare madri se non fosse quello il vostro caso si tratta di generare gestare qualche nuova realtà per qualcuno si tratta di un progetto magari al quale state studiando da tempo andiamo a vedere due di coppe infatti un 3 di pentacoli al contrario è un matto qui si potrebbe trattare di un accordo anche solo verbale che avete preso con qualcuno che prenderete con qualcuno molto facilmente potrebbe essere il partner per quello che riguarda un progetto come vi dicevo già qui c'è la gestazione di qualche cosa può anche essere una casa può anche essere l'idea di trasferirsi ipotesi di andare a vivere insieme con questo matto c'è questa questo impulso questa voglia di di questa nuova avventura di questo nuovo tipo di relazione se vogliamo di unione andiamo a vedere 4 di coppe abbiamo un'altra volta sette di bastoni al contrario un 3 di coppe è un asso di spade qui potrebbe essere l'influenza come vi dicevo anche qui esterna magari proprio degli amici di quello che vi dicono è come se con questo 4 di coppe foste un po limitati nel vedere chiaramente perché perché direzione va la situazione ci sono delle influenze esterne comunque potrebbe essere gli amici potrebbe anche essere una terza persona per qualcuno un terzo incomodo diciamo andiamo a vedere 4 di ok allora abbiamo un 7 di coppe un 2 di pentacoli e un 3 di bastoni qui qualcuno è attaccato a qualche idea il 2 di pentacoli molte volte fa riferimento a decicli carmici che continuano a ripetersi ma anche a degli alti e bassi c'è un qualche tipo di illusione perché 7 di coppe in questo caso fa riferimento alle illusioni alle quali voi siete aggrappati ok e però le cose non vanno avanti sembra iniziare qui all'inizio della lettura ma poi man mano che andiamo avanti è come se la cosa sembrasse perdere di forza andiamo avanti con questo cavaliere di coppa al contrario abbiamo la morte è un fante di spade ragazzi qui qualcuno si aspetta un movimento un impegno che direi un po troppo precoce per prendersi la carta della morte parla di tagliare anche il fante di spade alla spada alta si tratta di tagliare qualche tipo di attaccamento di abitudine qualche tipo di realtà qualche tipo di aspettativa perché comunque quando c'è un fante di spade si parla di una persona con tante idee una persona fondamentalmente piena di ideologie ma con scarso senso pratico andiamo a vedere questo sette di bastoni al contrario un'altra volta la giustizia sei di spade cavaliere di pentacoli al contrario e otto di pentacoli qui qualcuno si sente indifeso mi verrebbe da dire e c'è bisogno in qualche modo di di allontanarsi da questa giustizia e da questo contratto se vogliamo da questo compromesso ok c'è bisogno di fare probabilmente per qualcuno qui la difficoltà e nella nell'affrontare la quotidianità magari perché qualcuno non ha un lavoro però le cose con questo cavaliere di denaro al contrario vanno avanti veramente a passo di tartaruga andiamo avanti vedere la giustizia per piacere grazie abbiamo un re di spade al contrario la carta del diavolo al contrario il cavaliere di bastoni al contrario ragazzi qui arriva alla giustizia divina è perché comunque con queste due carte tre carte al contrario qui si tratta di una relazione dove voi nonostante ci sia questo accordo ci sia questi siano queste promesse che comunque non arrivano sento che per molte persone molti molti si sentono soli all'interno della relazione e qui questa zona parla proprio di quello che potrebbe essere una manipolazione a livello mentale perché qui abbiamo le proiezioni alla quale voi siete attaccati questo ciclo karmico dal quale non riuscite ad uscire andiamo a vedere se riesco a dirvi qualche cosa di più specifico ho tanto la sensazione che qui il discorso dei sentimenti dai conoscendo siano i vostri nei vostri confronti questa cosa che vi sentite indifesi vi sentite un po stretti andiamo a vedere ecco appunto guardate il diavolo il 4 di coppe che era già uscito qui e la giustizia che è uscita qui quindi per i single questa è un po la situazione state secondo me aspettando avete dei condizionamenti mentali realmente forti talmente presenti che qui si sta aspettando qualche cosa dall'esterno un movimento dall'esterno e invece qui le carte vi dicono che siete un po voi che dovete fare questo movimento di distanziamento sì quando c'è quando c'è il diavolo si parla sempre di qualche sorta di tossicità che c'è stato o che c'è all'interno di voi stessi perché comunque la carta dell'eremita è vero parla di introspezione ma non è sempre positiva cioè nel senso che molte volte molte persone ci finiscono come si dice sotto cioè cominciano poi a metabolizzare quello che un otto di spade le gabbie mentali per capirci e comunque quando c'è il diavolo c'è sempre questo condizionamento questa sorta di dipendenza dall'esterno andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione tre di bastoni al contrario imperatrice al contrario tra di bastoni era qui nove di spade al contrario asso di coppia al contrario sei di pentacoli al contrario la sacerdotessa ed eccolo qua l'otto di spade di cui vi parlavo prima quindi anche qui si fa fatica a fare un movimento in avanti ci sono troppe gabbie mentali che fanno sì che ci sia questa energia piuttosto disequilibrata c'è una contrazione della del cuore di quello che la vostra emotività è più una cosa ragionata più una cosa dettata dalla testa che non dal cuore ecco ma in effetti qui il consiglio è proprio quello di seguire il vostro istinto c'è la giustizia due volte quindi una sorta di giustizia divina arriva però secondo me per riuscire a raggiungere questa sorta di progetto che potrebbe anche essere proprio la maternità per qualcuno di voi che in questo momento magari non arriva credo che si debba passare da quello che è un auto analisi quello che è un seguire le proprie emozioni il proprio istinto tenete presente allora aspettate ve la racconto tutta si è girato un mago al contrario quello che ho sentito e che ci sono molte persone che se state cercando la maternità c'è una sorta di condizione mentale in questo momento che probabilmente crea una chimica di stress una sensazione di stress nel vostro corpo e potrebbe esserci qualche ormone un po così sbarellato sballato quindi qui un po il consiglio di non farvi prendere troppo la mano da questa situazione insomma lasciate un po andare state vedendo la cosa più tragica di quello che in realtà è questa carta la carta di chi vede le cose in modo pessimista in realtà al vostro 9 di spade e al contrario quindi state già uscendo da quella fase no ma dovete dovete collegarvi un po di più voi stessi fondamentalmente quel lavoro di introspezione di cui ci parla l'eremita andiamo avanti vediamo per l'ultimo gruppo abbiamo una regina di spade un asso di denaro il contrario e il sole al contrario anche qui si tratta di metterci un po di determinazione di ordine logico sia la regina di spade che la carta della giustizia sono qua per tagliare qualche cosa che probabilmente riferito al passato che non serve più finché non tagliate non riuscite a dare questo nuovo inizio alla relazione alla situazione al movimento di cui si parla qui con il carro c'è qualche cosa che con questo solo al contrario fondamentalmente non riesce a crescere ma qui sento che il lavoro di cui vi parla l'eremita un lavoro fondamentale per riuscire a capire che cosa tagliare dovete fondamentalmente darvi più amore andiamo a vedere una carta da parte di questi grazie allora abbiamo a questa carta parla di guardare di osservare di gas lighting vi faccio vedere come si scrive così lo cercate in inglese su youtube perché è una fase della manipolazione dei narcisisti quindi fate attenzione perché quando c'è tutto questo movimento a livello energetico qualcuno può essere intrappolato in una relazione narcisista che probabilmente arriva alla giustizia se non la tagliate voi a un certo punto arriva alla giustizia e se non è quello di cui voi avete bisogno per crescere arriva anche il momento torre a un certo punto ok e poi abbiamo questa carta che vi parla di rivelazioni di verità di forza di onore di potere di chiarezza e di verità quindi qui si tratta di far chiarezza mentale soprattutto dentro voi stessi sento perché ci sono troppi condizionamenti dall'esterno anche qui con il 7 di bastoni al contrario è un po come se ci fosse una sorta di idea che voi avete che state perseguendo ma in realtà vi rendete conto che siete un po così un po un po così un po su questa fase del ok ma me lo merito ma merito solo questo un merito di più e invece no voi vi dovete dire io merito di essere amato per il solo fatto di esistere un'ultima carta con gli oracoli dei guerrieri di luce andiamo a vedere che cos'altro che vogliono dire forza wow coraggio fondamentalmente siete guidati dal cosmo rimani forte perché un risvolto positivo è assicurato la giustizia divina e poi questa carta questa carta parla di compassione fondamentalmente ok e vi dice di fare appello a quello che è la fiamma blu scusate la stella blu la stella blu vi guiderà attraverso la verità che risiede nella vostra anima per quello che è importante fare un lavoro di introspezione cercate le risposte dentro di voi amici dei pesci questo è quello che ho per voi io spero che la lettura vi sia stata utile vi ringrazio di essere stati qui con me mi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao